Musica Sarà un iter lungo e complesso che ha già mosso i suoi primi passi nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. La riforma del premierato è stata al centro di un convegno promosso dalle ACLI che si è svolto in Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. La novità più forte di questa riforma è l'elezione a suffragio universale e diretta del premier. L'auspicio per il costituzionalista Stefano Ceccanti, relatore al dibattito, è che si arrivi a delle regole condivise per questo livello di governo. La cosa importante sarebbe che arrivasse bene. Noi abbiamo i governi e gli altri paesi che di norma sono di legislatura e scelti dagli elettori. Abbiamo sindaci e presidenti di regione con governi e legislatura scelti dagli elettori. Rimane da risolvere con regole, da verificare, da discutere il livello del sistema nazionale. Quindi dovrebbe essere in intenzione di tutti quella di arrivare a delle regole condivise per questo livello di governo. Il testo del governo è molto criticabile, ma c'è il rischio di un dialogo tra sordi in cui il governo pensa di approvarlo così com'è, andando direttamente al referendum, e le opposizioni, invece che concentrarsi sul merito, fanno anche loro una propaganda negativa e basta. Invece tutti avrebbero da guadagnare da un confronto di merito molto serio. Parla di riforma necessaria Giuseppe Calderisi, componente del Comitato Scientifico della Fondazione Magna Carta. Un traguardo difficile da raggiungere, evidenzia, a causa di una contrapposizione propagandistica dovuta al clima elettorale per le elezioni europee. Il rischio di una contrapposizione tra innovatori un po' sgangherati e conservatori, difensori della costruzione più bella del mondo. E sarebbe una difficile scelta fra quali delle due strade seguire, se fare una riforma fatta male o non far nulla e lasciare le cose come stanno. Per cui si spera che almeno dopo le europee il clima cambi, ci sia la possibilità di un testo condiviso, fatto bene, perché soprattutto poi c'è un referendum. Il referendum, tutti sono convinti di vincerlo, ma qualcuno lo perderà, o di qua o di là. Per cui, siccome potrebbero perdere sia gli uni che gli altri, l'esito è incerto, forse invece che prendere una bella botta, converrebbe a tutti ragionare e fare un tentativo, almeno un tentativo, di riforma condivisa. C'è consapevolezza dal suo punto di vista, soprattutto nella cittadinanza, di quelle che saranno eventualmente le modifiche che questa riforma potrebbe apportare? Pochissime, pochissime e per questo questa iniziativa è particolarmente importante. Vede l'illustrazione generale che se ne può avere, quella affidata ai talk show, che sono degli spettacoli, ma non hanno la capacità di far comprendere alla gente con quella confusione generale, quale sia effettivamente la portata dei singoli problemi e quali siano le possibili soluzioni. Grazie a tutti.